Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a vedere cosa si può fare con amazon alexa in particolare con un ecodot che ho qui davanti a me utilizzandolo ovvero come altoparlante di un pc. Come si fa? Lo vediamo in questo video. Ovviamente l'ecodot come qualsiasi altro dispositivo amazon è un dispositivo che funziona senza fili tramite la tecnologia bluetooth se il vostro pc non ha già integrato un adattatore bluetooth occorre procurarsi un dongle usb ovvero una chiavetta usb in grado di trasmettere in bluetooth tramite il dispositivo amazon ecodot. Ovviamente quello che sto per fare io con l'amazon ecodot è possibile farlo con qualsiasi altro dispositivo della linea amazon ecco. Io in casa ho tre ecodot più un amazon ecoplus che sarebbe stato ancora migliore perché la cassa è sicuramente più performante ma lo utilizzo semplicemente in un'altra stanza per comandare i vari dispositivi come le lampadine per esempio. All'inizio del video avete visto il dispositivo che utilizzerò eccolo qua ve lo faccio vedere questo è un dongle usb che io ho acquistato su amazon penso che costi meno di 10 euro e ha la funzione bluetooth integrata ma anche dispositivo wifi quindi serve anche per connetterci via internet e trasmette in doppia frequenza a 2,4 gigahertz e a 5 gigahertz. Procediamo ad unboxarlo dentro c'è un piccolo manualetto di istruzioni ma penso che non serva assolutamente a niente windows lo riconosce in maniera automatica perché l'ho provato in un altro pc eccolo qua guardiamo se la webcam riesce a metterlo a fuoco questo basta semplicemente inserirlo in una qualsiasi porta usb del pc da anche 2.0 e windows lo riconosce immediatamente quindi procediamo ora inserirlo nella porta usb mi raccomando non in un hub deve essere inserito in una porta usb di scheda madre allora mi sono piazzato nell'angolo a destra nello schermo come ben vedete per farvi vedere come si procede questa è la chiavetta che ora io inserirò nella porta usb frontale voi nell'angolo in basso a destra vedrete il riconoscimento da parte di windows della chiavetta configurazione in corso di un dispositivo ecco il dispositivo come avete ben visto c'è già l'iconcina bluetooth il che significa che è stato riconosciuto in maniera positiva quindi windows l'ha visto e integrato all'interno di sé a questo punto basta andare qui in basso a destra aprire questo piccolo pannello tasto destro sull'icona bluetooth apri impostazioni questa operazione è necessaria perché bisogna andare a controllare se il computer è visibile come dispositivi bluetooth perché deve essere visibile il computer semplicemente perché dobbiamo passare poi dal computer all'applicazione di amazon alexa perché è questa che deve andare a rilevare l'ecodot come dispositivo o meglio deve rilevare il computer tra i vari dispositivi bluetooth in automatico bluetooth attivato ora individuabile come desktop ad2t jj o questo è il nome che il computer ha tra i vari dispositivi bluetooth e quindi è individuabile adesso passerò all'applicazione di amazon alexa eccomi di nuovo qua con l'applicazione amazon alexa aperta ve la faccio vedere mi spiace non lo so ho detto l'era posso cercare il numero di alexa perché sennò è impossibile andare avanti una volta aperta l'applicazione di alexa si va su tutti i dispositivi che si hanno installati di amazon si va sull'ecodot che io sto utilizzando perché è questo che deve funzionare come altoparlante del pc in questo caso ecodot studio come vedete ci sono tutte le impostazioni dell'ecodot noi dobbiamo andare alla sezione wireless del dispositivo e in questo caso dispositivi bluetooth associa un nuovo dispositivo bluetooth clicchiamo su questo l'applicazione amazon andrà in ricerca di tutti i dispositivi che sono disponibili qui in basso nel display dello schermo è apparsa la dc2 raggiunge un dispositivo tocchiamo connessione esaguita come avete sentito alexa la connessione è riuscita l'applicazione sta infatti dando esito positivo sia come potete vedere dallo schermo dell'iphone che dal schermo pc il dispositivo è pronto a questo punto ovviamente basta andare dove c'è l'iconcina della cassa altoparlante bluetooth 100% e come vedete si è già automaticamente settato sulla voce ecodot con il nome in configurazione stereo ovviamente se non ci fosse il nome basta cliccare e sopra vi appaiono tutti i dispositivi di riproduzione in grado di riprodurre un suono noi ovviamente selezioniamo l'eco dot e per farvi vedere come riproduce basta andare su youtube cerchiamo della musica no copyright no copyright music così almeno non si rischia nulla apriamo il canale audio library music for content creator e mandiamo in riproduzione il video facciamo partire un qualsiasi file video per esempio questo e io vi riprodurrò vi registrerò l'eco dot aspettate che chiudo lo spot ovviamente voi non riuscirete a capire la se la musica viene riprodotta dall'eco dot io ve lo posso garantire vi faccio vedere che come altoparlante è selezionato proprio altoparlanti ecco dot vuol dire che sta riproducendo la musica alziamo un attimo il volume direi che siamo perfettamente riusciti nel nostro intento bene ragazzi io il video l'ho terminato se avete qualche dubbio scrivete sotto nei commenti spero che vi sia piaciuto condividetelo se così è stato su tutti i social mettete un bel like sul video ovviamente vi lascio in descrizione il link della pennina wifi bluetooth su amazon noi ci vediamo ad un prossimo video e soprattutto iscrivetevi al mio canale l'unico modo per potermi supportare ciao a presto